Domenica 11 dicembre 2022 a Besanabrianza il tradizionale mercatino natalizio organizzato dalla Proloco di Besanabrianza. 100 bancarelle con mille idee per i tuoi regali. Andiamo a vederle. 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 Per il secondo anno ecco anche la pista per pattinare sul ghiaccio molto amata dai bambini e non solo dai bambini. Oltre alla bella slitta su cui i bambini si sono divertiti a fare tante belle foto, ecco anche la casetta di Babbo Natale. Pronte le lettere per Babbo Natale? imbucatele qui. Andiamo a vederle. 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 Grazie a tutti. 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 Ciao, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salutiamo anche il nostro super babbo natale e buone feste a tutti. Al prossimo anno.